Ciao a tutti e benvenuti qui nei Lucky Block Challenge In tantissimi nei precedenti video Nei video passati mi avete sempre detto di fare i Lucky Block Challenge Mi avete detto What the fuck mi hai incastrato in sto blocco Arthur Allora mi avete detto sempre di fare i Lucky Block Challenge Cioè voi aprite i Lucky Block Trovate le robe fantastiche dentro e poi combattete, fate PvP Benissimo, ho trovato un server fantastico dove puoi fare queste cose Come vedete tutte queste persone stanno aprendo i Lucky Block E i Lucky Block sono tanti diversi, che figata avete visto E dentro si possono trovare un mucchio di cose Quello sta per esplodere Allontaniamoci, no questo sta per esplodere E mamma mia che figata Sto usando una texture che vi lascio in descrizione Su Twitter avevo detto Se vi interessava vedere di nuovo i Lucky Block E visto che molti di voi è piaciuta l'idea su Twitter Se mi avete detto fai i Lucky Block Bene, eccoli qua Quindi ho trovato il Lucky Block con questo Quindi credo di iniziare una serie sui Lucky Block Challenge in questo server Che vi lascio in descrizione perché sembra essere molto bello Perché lo chiamo Lucky Block Challenge perché In questo server dovete aprire tipo 30 Lucky Block Che sono tipo diversi Vedete che hanno la skin diversa Dovete poter trovarci dentro tantissime cose Guardate, ho trovato la testa di Lord Helmikoff Deve essere un qualche personaggio oscuro Di Minecraft E quindi sì Credo di fare una serie sui Lucky Block Challenge Li chiamo Challenge perché in questo server Allora avete tipo 7 minuti per aprire il Lucky Block Dopo i 7 minuti sapete cosa succede? C'è una specie di torneo Una specie di torneo Dove ogni persona va contro un'altra E si deve qualificare per il prossimo turno E oh mio Dio che cacchio è successo Un casino di ragnatele E quindi chi vince tutte le battaglie va in finale E fa la battaglia finale contro la persona che è arrivata in finale Ed è una cosa fantastica Questi gatti Speedy Gonzales È una cosa fantastica perché Ho sempre cercato Ho sempre voluto fare un video sui Lucky Block Con tante persone che aprono i Lucky Block e si divertono E quindi questo è il server perfetto sinceramente Quindi ditemi nei commenti cosa ne pensate Allora visto che io non chiedo mai i like Lo sapete Non lo chiedo mai Cioè non è che non li chiedo mai Li chiedo ma li chiedo semplicemente quando Sto per iniziare una nuova serie O ci sono certi episodi che non so se vi piaceranno o no Quindi se vorreste vedere una serie sui Lucky Block Challenge Una bella serie lunga stavolta Perché avevo fatto tanti episodi sui Lucky Block quasi un anno fa Ma non ho continuato perché non avevo intenzione di continuare Guardate questi Endermity che schifo Quindi se avete voglia di vedere una serie sui Lucky Block In questo server Arriviamo a 2000 mi piace Sì E dopo inizio una serie Qua c'è un boss da qualche parte Qualcuno l'ha evocato Appena finiamo qua cerchiamo di andare a ammazzarlo Cambiamo posto perché qui abbiamo quasi tutto distrutto Ovviamente la mappa qui è grande Perché è per aprire il Lucky Block Potete anche rubare il loot degli altri se volete Tipo quello adesso ho trovato una bella Gapple E questo cos'è? Animali Uno sopra l'altro va bene Passiamo da questa parte Voglio trovarmi un posto bello calmo Dove portare a aprire il Lucky Block Qui forse va bene Abbiamo di inventare pieno ancora no Ok no qui dobbiamo cambiare posto Qui va bene Perfetto Avete visto che ci sono tantissimi Lucky Block diversi Che figata pazzesca Guardate quello Cacchiororo Un mostro senza testa E ovviamente se lo uccidete Vi droppa la sua armatura Quindi andiamo a ucciderlo Andiamo a ucciderlo Perché se questo boss lo uccidiamo Ci dà un'armatura fantastica E la voglio Perché se la prendono loro Dopo nel pvp Mi distruggono Se è fort Cioè se poi si può uccidere Perché a me sembra invincibile Porca miseria Un mostro senza testa Pazzesco Si trovano tantissime cose In questi Lucky Block Come potete vedere Che figata eh Hanno già preso il loot Porca miseria C'è morto C'è morto quello lì E hanno preso il loot Che palle Ma volevo prendermi Una bellissima armatura in diamante Dovete stare sempre attenti qua A aprire il Lucky Block Perché qualcuno potrebbe Venirvi a rubarveli Sì Perché se tipo qualcuno li finisce Comincia a cercare gli altri Che ce li hanno E li ruba Ok Apriamo ancora questi Lucky Block E poi vediamo Ma non abbiamo avuto tanta fortuna Comunque Perché Sette spawn zombie Questi daranno qualcosa di interessante No Sono semplicemente zombie Che mi ti danno fastidio Comunque se morite Non succede niente Rispaunate senza aver perso niente Perché ovviamente Come Lucky Block Challenge E poi potete continuare Ad aprire il Lucky Block Senza Aver paura di perdere qualcosa Ok Abbiamo ammazzato tutti questi Non danno niente Ci sono certi zombie Che sono vestiti full diamond Che se li uccidete Vi droppano la loro bellissima armatura E Volevo tanto Trovare uno di quelli Peccato Allora Non abbiamo trovato niente Di interessante Abbiamo una Una torcia Che si chiama Fuer Che è Fire Aspect Abbiamo questo glass block Che non credo sia qualcosa Serva qualcosa Abbiamo qui Il piccone In ferro Abbiamo qua Nether Quartz Che possiamo usare Per farci l'esperienza Ma Non ci serve a niente Perché tanto Non abbiamo niente Devo andare a trovare Qualcuno adesso qui in giro Che abbia tipo Qualcosa Da potermi dare Guardate come sono messo Cioè sono messo Malissimo E potrebbero ammazzarmi Facilmente Nel PvP Ovviamente questo è un primo episodio Quindi non me ne frega Di Non me ne frega Di farvi vedere Le partite in cui vinco Farò tutte le partite Registerò tutti i video E vi farò vedere Dove mi piazzerò Tutte le volte che vi piazzate Da qualche parte Ve lo dice in chat Vi dice vi siete piazzati Totte Blablabla Prima ho fatto una partita Tipo mi sono piazzato sesto Non ci credo Ci stanno anche i Wither Ma che figata è Di questa modalità Oh mio dio È proprio come la Lucky Block Challenge Questo c'ha Un bellissimo Lucky Block In mano Quindi cerchiamo di ammazzarlo Forse ci dà qualcosa Dovrei Non so Forse posso trovare Qualche Qualche minerale Cioè qualche diamante In giro Oh Ammazzato C'è qualcosa qui Oh Un blocco di diamante No Eh però lì c'è un blocco di diamante Che vorrei farmi Sapete perché Oh mio dio Anche questo se lo vuole fare C'è la lui Il Lucky Block Che cacchio vuole questo Si sta mettendo in mezzo Sto fottuto aerobrine Eh vuole prendere anche lui Il blocco Eh lo prendo io invece Eh no Vedete se lo vuole prendere lui Ah Andiamoci a nevi Va Eh Gli rubo tutto quello che riesce a prendersi Oh mio dio Useless Cobra È già full diamond Ovviamente qui in giro In questa mappa Sicuramente ci stanno tutti i pezzi I blocchi di diamante Ovviamente io Mi sono concentrato più a spiegarvi Il server che altro Guardate quante cose ci stanno Quindi è un casino Ecco Questo è il mio primissimo combattimento Allora Credo No non ghappola adesso Allora Devo stare attento Non so se l'avversario mi droppa qualcosa Se lo uccido Guardate Ha bevuto la voce di invisibilità Non ci credo Credeva che non lo vedessi Oh Wow 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 Attenzione Questa c'è la testa di aerobrine Dove l'hai presa la testa di aerobrine? Se l'ha messa questa qui la testa di aerobrine Oh mio dio È potente la cosa La Fire Aspect 5 Perfetto L'abbiamo ucciso Dov'è? Eccolo Eccolo Guardatelo Devo bruciarlo Dove sei? Lo bruciamo così lo posso vedere Oh mio dio Non riesco a vederlo Perfetto Uh Abbiamo vinto Sì Abbiamo vinto Grande scavatore I snatch stand match Fantastico Ho vinto con un cuore Pazzesco Ok ci è andata benissimo questa partita Quindi ci siamo qualificati per il torneo più avanti Questa è la mappa che In cui stavo adesso E che tutti hanno usato per aprire il lucky block Come vedete E qui nella torre centrale Ho visto che ci sono tipo dei blocchi Che si possono scavare Comunque ci sono tanti che Ecco vedete Guardate qui Potevo farmi tipo I full diamond Eccetera eccetera Vabbè È la prima partita È il primo video Volevo spiegarvi un po' com'è Ecco guardate qua ci stanno i blocchi diamante Quindi è facilissimo Farsi full diamond Quindi nei prossimi video Vedrete che giocherò molto meglio Ovviamente Se vorrete questa serie Quindi Ricordatevi di arrivare a 2.000 Mi piace E cominceremo questa bellissima serie Sui lucky block challenge Perché sembra veramente fantastica Ho sempre Voluto Fare una serie Sui lucky block challenge Allora qua ci fa vedere Tipo l'ultimo match Che è contro Baza contro Ranmitte E appena finisce E noi cominciamo a combattere E tipo andiamo nelle qualificazioni Cioè Ci sono tante qualificazioni E voi quando adesso state cercando Qua State girando Nella mappa Potete guardare la bussola Tutti i combattimenti in corso Ma visto che è rimasto solo questo Anzi È finito Sì Perché Baza Ha leftato Questo È un altro Sono contro Mata Singed E mamma mia Se questo è full diamond Io sono fritto Eh Oh mio dio Oh Oh cacchio Eh lui è già partito benissimo L'ho bruciato con la fire aspect 5 Ok Ok No 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 Questo qua ci muoio Oh Forse no Perfetto Oh quello è l'anticid Perfetto Oh no Mi ha colpito prima lui Ah Peccato Mi sono piazzato sesto Un po' come prima GG Grandissimo Grandissimo Mata Ma Singed Wow Che figata Ah Mi è andata bene questa partita Ma Fidatevi Questo è un server fantastico Ovviamente Dittemi cosa ne pensate nei commenti Eh La sotto mi piace Se vorreste vedere questa serie Sui Lucky Block Challenge Ehm Niente L'IP lo trovate in descrizione La texture La trovate in descrizione E ci vediamo a un prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti